Anche quest'anno ritorna Velo, la trasmissione dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. Fare i puntati sul Giro d'Italia, il Tour de France e poi tantissimo ciclismo di casa nostra. Al mio fianco ovviamente ci sarà come sempre Luciano Rabbottini e anche Alessandra Portinari con la sua fortunata rubrica Segui il ciclismo e da giovedì 5 marzo tutti giovedì sera in diretta alle 21 su TV6. Grazie